Ciao, sono Giuseppe Bruscolotti ho giocato in due squadre professionistiche la prima è stata il Sorrento per due anni poi dopo a Napoli e quindi chiaramente tutta la mia carriera tutta la Serie A col mio Napoli Diego Armando Maradona è il più grande al mondo quindi ho avuto la possibilità di giocarci e quindi di vedere e ammirare la sua grandezza è diventato il mio capitano su mia volontà perché vedevo un giocatore molto motivato per me significava tutto perché comunque era in chiusura di carriera e speravo tanto che potessi vincere qualcosa di positivo come stato e quindi decisi di dargli la fascia di capitano lui ne fu molto compiaciuto molto orgoglioso e diciamo che è stato un gesto di come dire, di piacere ma principalmente di motivazione lui caricava la squadra come si caricava lui con dei gesti lampanti di forza e mentre si scaldava che palleggiava così lanciava delle urla di carica insomma questo era il suo modo così per scuotere e caricare un po' i compagni la sua non è nuova perché comunque la testimonianza di affetto lui l'ha avuta sempre ogni volta si è affacciato a Napoli diciamo che anche per lui era un po' di tempo che mancava e quindi è stato è stato un impatto non semplice perché lo vedevo che anche lui insomma aveva una certa emozione nello stesso tempo una certa carica verso questa gente che l'ha acclamato e quindi che gli vuole sempre ancora un mondo di bene un saluto a tutti i lettori di Calcissimo e speriamo che insomma tutte queste cose possano servire così a chiarire alcuni punti che tanti di loro magari si sono chiesti sempre durante i filmati durante le cose che vedono per televisione quindi sentire la viva voce insomma penso che la cosa sia un pochino diversa